Cosa è un uomo? Se il suo unico modo di impiegare il tempo è rappresentato dal dormire e mangiare. Una bestia? Nient'altro. Certo, chi ci ha creato con una così vasta facoltà di unire il futuro al passato non ci ha concesso questa capacità e questo dono divino della ragione per chi ammuffissero dentro di noi. Come vorrei che le tue dolci grazie fossero la ragione principale del turbamento del nostro amuleto? Ti prego, ascoltali o la fede ti verrà disperata. Le mie labbra, le tue labbra hanno tolto il peccato. E le mie lo hanno avuto dalle tue? L'hai avuto dalle mie labbra. Che incoraggiamento suave, allora rendimi il mio peccato. Baci come un dio. Baci come un dio.